col cervello di un topo di selina pasquero mi annoio erano le otto di sera ma a parte l'orologio nulla di quello che circondava nat avrebbe potuto suggerirle che ore fossero era chiusa in laboratorio dalle sette quella mattina e ora la luce bianca artificiale e assettica era la sua unica compagnia un innaturale silenzio regnava in quegli spazi ampi di solito colmati da un brulicante sciame di formiche in camice bianco ognuna convinta di essere una regina della scienza mentre era una semplice operaia della ricerca lo so ci siete voi miei piccoli mici ma anche voi siete noiosi indifferenti le noccioline persistettero nella loro immobilità la stavano prendendo in giro era evidente dovreste essere giro encefali invece no vi ostinate a venire fuori lisse encefali io vi odio tre mesi tre mesi di lavoro per far differenziare le cellule staminali per fargli assumere la giusta architettura tutto per ottenere cosa degli ammassi di cellule perfettamente funzionanti ma senza nemmeno una piega piccola piccola emisferi cerebrali lisci come l'elettrocardiogramma di un morto al massimo potevano essere considerati cervelli di topo e somigliavano in maniera stranamente appetitosa a delle nocciole sgusciate tanti cari saluti all'avanzamento della ricerca a fare il grande balzo e generare in vitro il cervello di un coniglio erano ancora lì fermi ai topi da sette anni avrei dovuto specializzarmi in biotecnologie vegetali ora starei cercando di far attecchire le piante di mais sulla luna mentre parlava ai suoi silenziosi interlocutori controllava il loro corretto sviluppo fisiologico lei li stimolava col piccolo elettrodo e osservava la loro risposta visualizzata immediatamente dal proiettore olografico tridimensionale che riproduceva il cervello in versione più grande gli impulsi nervosi come scariche elettriche una volta quando era studente avrebbe trovato affascinante tutto questo generare un intero sistema nervoso in vitro in maniera completamente artificiale ingrandire ingrandire la proiezione tridimensionale tanto da poterci entrare e avere la sensazione che gli impulsi elettrici ti scorressero a fianco ora però dopo anni e anni che faceva sempre le stesse cose tutto era straordinariamente ordinario e altrettanto noioso ma che schifo quello è un cervello nat rischiò di pugnarare il cervello con l'elettrodo per la sorpresa si voltò per vedere a chi apparteneva la vocina che aveva appena parlato accanto al suo orecchio dietro di lei non c'era nessuno ma appollaiato sulla sua spalla un topolino bianco si lasciò i baffi con la zampa la ricercatrice si guardò intorno forse per cercare qualcun altro a cui quella voce potesse appartenere o forse per essere sicura che nessuno la vedesse parlare con il topo smettila di agitarti così va a finire che cado sul cervello inutile non c'era proprio nessun altro si può sapere come sei scappato dallo stabulario mentre poneva la domanda a denti stretti si rese conto che era da più di due anni che in quella struttura non tenevano più topi potendo generare in vitro i loro cervelli non servivano più in ogni caso il suo piccolo interlocutore invece di rispondere scosse i baffi solleticando la guancia stufa di farsi venire il torcicollo per guardarlo lo prese per la collottola e lo appoggiò sul bancone piano accidenti protestò il piccino così mi arruffi tutto il pelo nato lo osservò qualche istante perplessa tu sei un topo e che brillante deduzione presto scrivici un articolo e pubblicalo prima che lo capisca anche qualcun altro volevo dire che il tuo cervello non è abbastanza sviluppato non dovresti parlare e tu non dovresti vedere topi parlanti al lavoro eppure eccoci qua nato non ribatte in fondo non aveva tutti i torti dopo un attimo di imbarazzo senza sapere che dire riprese a stimolare il cervello in vitro cercando di ignorare il roditore spiegami una cosa nat questi cervelli che fai pensano sono cervelli di topo i topi non pensano il topolino scosse i baffi agitato che offesa insolente io penso e come tu sei un prodotto della mia immaginazione non fai testo ma chi ti dice che sia un prodotto della tua immaginazione perché cosa altro potresti essere la proiezione tridimensionale di un essere epta dimensionale un alieno arrivato da un altro pianeta un organismo geneticamente modificato vedi un po tu usa l'immaginazione nato riflette qualche istante ponderando le diverse possibilità mentre il topo esplorava il bancone su cui era stato depositato credo che siano tutte ipotesi assurde la cosa più probabile è che tu sia un prodotto della mia mente in effetti hai ragione si arrese il roditore dopo aver riflettuto un istante però non hai risposto alla mia domanda volevo sapere se questi cervelli sentono qualcosa questa volta nati impiegò meno tempo a formulare un'ipotesi rispondono agli stimoli perciò direi di sì loro sentono qualcosa i lunghi baffi del topo si agitarono di nuovo furiosamente allora quello che stai facendo è orribile in questo laboratorio siete dei sadici degli assassini che vuol dire sono solo cervelli servono apposta a non usare più degli animali come modelli per la ricerca ma questo è anche peggio ti rendi conto quel poveretto sta lì su quella tristissima lastra di plastica immerso in un disgustoso liquido viscoso e non può fare niente è la peggiore prigione del mondo va bene ma calmati anche se possono percepire degli stimoli non vuol dire che siano coscienti del fatto di esistere sicuramente non sono coscienti del fatto di essere solo dei cervelli adesso lei si stava scaldando il topo parve rifletterci un attimo di nuovo perfettamente calmo nel giro di un istante allora anche noi potremmo essere solo dei cervelli con qualcuno che ci dà degli stimoli da fuori per cui ci sembra di avere un corpo di fare delle cose e di avere delle idee ma in realtà siamo sempre fermi nello stesso punto e non facciamo niente la ricercatrice analizzò per qualche istante quell'ipotesi sì immagino che sarebbe possibile ma non per te tu saresti solo il prodotto di uno stimolo dato al mio cervello quanto sei pignola e il topolino prese un pezzo di carta usata per pulire il bancone e cominciò a farla a pezzi però ho ragione no tu potresti essere un cervello e basta con qualcuno che con un elettrodo ti fa vivere la tua vita pensa se così fosse quel qualcuno potrebbe essere ciò che chiamate dio stiamo divagando questa è teologia non scienza non è il mio campo non parlava mai di cose su cui non aveva delle certezze hai una visione molto limitata per essere una persona che studia il cervello dimmi una volta che sarai riuscita a passare dai topi ai conigli che cosa farai non so immagino che cercherò di ottenere qualcosa di più complesso magari un furetto i furetti sono inquietanti cattivi a me cosa importa tanto avrei solo il cervello il topo si fermò nuovamente a pensare continuando a strappare la carta che ormai aveva fatto una piccola montagnola una volta ottenuto il furetto cosa farai potrei provare a fare un cervello di un cane o di un gatto e dopo il cane o il gatto la vuoi smettere con te che parli non riesco a lavorare stai evitando di rispondermi passerò ai primati e dopo i primati passerò all'uomo e dopo l'uomo passerò agli alieni visto che ormai pare proprio che non siamo più i soli nell'universo sei contento adesso il topolino scosse i baffi la risposta lo aveva innervosito di nuovo come fai a dire una cosa del genere con tanta trascuratezza avresti il cervello di un uomo vivo tra le mani avrai un cervello umano non il cervello di un uomo vivo non ci sarebbe proprio nessun uomo come il topolino agitò le zampe spargendo su tutto il bancone i coriandoli di carta come fai ad avere una visione tanto ristretta non sentirebbe dolore non proverebbe piacere non avrebbe sogni desideri ed idee sai una cosa nata spense il proiettore tridimensionale cominciò a mettere via gli elettrodi non vedo l'ora di ottenere il cervello di un coniglio sono sicura che loro sono molto meno rompiscatole di voi topi inoltre sono anche più carini il topo rimase immobile fissandole con i piccoli occhietti rossi come se cercasse di guardarle attraverso ma certo sempre la solita vecchia storia anche quando c'è la sperimentazione animale era così poveri conigli sono così carini la sperimentazione animale è una cosa da barbari nessuno che pensasse anche a noi topi aveva preso un altro pezzo di carta e cominciato a strapparlo nervosamente rendendo la sua voce volontariamente più acuta quasi parlasse a se stesso guardatemi sono un coniglio ho le orecchie lunghe e la coda a palla tutta pelosa e gli incisivi incredibilmente grandi amatemi tutti stupidi morfiosi suo magrado nat sorrise sai una cosa topo credo che se veramente io fossi solo un cervello e tutto ciò che mi circonda nascesse da stimoli indotti con un elettrodo allora chiunque stia usando quell'elettrodo deve essere ubriaco per farmi vedere te il topo si fermò di nuovo calmo come se non fosse successo nulla oppure deve avere le allucinazioni e immaginare di parlare con un topo grazie a tutti